A sette mesi dal rinnovo del Consiglio regionale in Abruzzo e già a campagna elettorale, il leader dell'opposizione Silvio Paolucci attacca Marsilio, ha fallito e lavora ad un progetto alternativo. Dopo 67 anni dalla tragedia di Marsinelle in cui morirono 60 abruzzesi e 7 molisani, ancora si continua a morire di lavoro. Grande commozione a Teramo per l'ultimo saluto a Gian Donato Morra, difensore civico della regione Abruzzo. L'onorevole Donzelli, braccio destro di Meloni, è stato punto di riferimento di Fratelli d'Italia. Prezzi della benzina alle stelle, costi insostenibili, dicono gli automobilisti, nostra inchiesta. Slitta a fine mese la decadenza di Roberto Gravina da sindaco di Campo Basso. L'opposizione in calza, fatto gravissimo. Ultimi giorni di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli campione d'Italia. Sirene arabe per Osimen e Zielischi, il presidente dei Laurentiis, alza il muro. Infine allo sport, il Campo Basso punta sui gol di Leo Abreu. Piazza importante, dice il bomber, col 3-5-2 di Mosconi. Mi trovo bene, acquisti per Vasto Girardi e Isernia. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campo Basso. Tante notizie nel telegiornale, lo avete sentito dai titoli in apertura. C'è la politica a sette mesi dal rinnovo del Consiglio regionale in Abruzzo. È di fatto già campagna elettorale con il leader dell'opposizione, Silvio Paolucci, che attacca duramente il presidente della regione in carica, Marco Marsilio. Ha fallito, ha detto ai nostri microfoni. Lo ha intervistato per noi, Valentina Cialante. Sentite. Elezioni regionali d'Abruzzo mancano sette mesi, ma il PD pone già una base importante a terra, dando mandato al capogruppo DEM in Consiglio regionale Silvio Paolucci di creare una coalizione unita, capace di detronizzare Marco Marsilio, di sicuro in corsa per il BIS, e battere la corazzata del presidente di Fratelli d'Italia. L'investitura per l'esperto ma giovane politico di Tollo, ex assessore regionale alla sanità a federatore del centro-sinistra, è arrivata al termine della direzione del Partito Democratico, svoltasi nella sede di Pescara, ed è il preludio alla sua candidatura a governatore, nell'area da mesi e caldeggiata dai sindaci di Vasto e Teramo e da molti big del partito. L'obiettivo è comporre un'alleanza con forze civiche che batta un centrodestra fallimentare, ha spiegato Daniele Marinelli, segretario del PD Abruzzo, e Paolucci ha già in mente da dove cominciare. Prima ancora di scegliere il candidato presidente bisogna davvero sentire che dietro questo fallimento di Marsilio occorre tutti insieme, io lo chiamo Abruzzo insieme, costruire un progetto alternativo a Marsilio. Poi vedremo chi avrà la possibilità, magari a maggioranza evidentemente, difficile a volte avere un'animità, avrà la possibilità di interpretare meglio di tutti questo progetto largo e questa coalizione larga. Il centro-sinistra e anche il PD, riusciranno a superare le correnti interne, quindi davvero a presentarsi compatti all'appuntamento con le regionali? Finora in Abruzzo è stato così, è stato così quanto si è dovuto scegliere la delegazione parlamentare, è stato così quando si sono tenute anche le altre elezioni, sia quelle che sono state fortunate, come a termo a Chieti, sia quelle meno fortunate in altre realtà, auspico e confido che anche per le regionali si senta il bisogno, la necessità, io aggiungo, il dovere per l'Abruzzo di sentirsi e di essere, stare uniti per battere Marsilio. Dopo 67 anni dalla tragedia di Marsinel, in cui morirono 60 abruzzesi e 7 molisani ancora, si continua a morire di lavoro questa mattina a Manopello, la commemorazione delle vittime del 56. C'eravamo anche noi, sentite. Anche il gonfalone della regione Abruzzo questa mattina era presente a Marsinel in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime della miniera di Bois du Casier, una presenza d'alto valore simbolico per onorare al meglio chi ha perso la vita in quella immane tragedia di 67 anni fa. Lo ha fermato questa mattina a Manopello. Il presidente della regione Marco Marsilio, intervenuto alle celebrazioni in memoria delle 262 vittime della tragedia della miniera di Marsinel, città belga, dove morirono ben 60 abruzzesi. Le tragedie sul lavoro purtroppo si ripetono, anche se non in quella intensità. Ci è voluta quella tragedia per far aprire gli occhi sulle condizioni di lavoro dei nostri minatori in Belgio. Io ringrazio anche i pochi testimoni e sopravvissuti dell'epoca che vincendo il dolore che ancora portano nel cuore stanno qui insieme a noi a condividere questa esperienza e queste emozioni perché possano continuare a vivere nel futuro e a darci ancora un insegnamento. Alla cerimonia di commemorazione di Manopello che si è svolta in contemporanea con quella di Marsinel sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo ed i parlamentari Nazario Pagano e Guerino Testa. E da Marsinel persero la vita 262 lavoratori, fra i quali 136 italiani, tra le vittime anche sette molisani, Felice Casciato di Sant'Angelo del Pesco, Francesco Ciccola di San Giuliano di Puglia, Francesco Granata, Michele Granata e Michele Moliterno di Ferrazzano, Pasquale Nardacchione di San Giuliano del Sagno e Liberato Palmieri di Busso. Sull'argomento sono intervenuti anche Franco Spina della CGL Abruzzo Molise e Paolo De Socio della CGL Molise, 67 anni dopo ancora si continua a morire nell'esercizio del più nobile dei diritti sanciti dalla Costituzione. Il lavoro, dicono Spina e De Socio, i dati del primo semestre 2023 sono impietosi e preoccupanti, allo stesso tempo 450 le vittime, stiamo parlando, dicono, i due sindacalisti di 75 morti al mese che non sono numeri ma persone in carne ed ossa che partono per un viaggio senza ritorno proprio come fecero i minatori dell'Italia e i tanti emigrati dell'Italia del dopoguerra. Ed ora andiamo a Teramo dove ieri pomeriggio c'è stato l'ultimo saluto a Gian Donato Morra, difensore civico della regione Abruzzo, a rendergli l'ultimo omaggio non solo il partito e gli alleati ma anche chi non era del suo credo politico. C'era anche l'onorevole Giovanni Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni che ha detto era un punto di riferimento per Fratelli d'Italia. Per noi c'era Chiara Bonatti. Ieri pomeriggio in Duomo l'ultimo saluto a Gian Donato Morra, da primo assessore nell'ex Giunta Chiodi, poi candidato sindaco a Teramo nel 2018 e infine difensore civico per la regione Abruzzo. Oltre agli esponenti del suo partito, Fratelli d'Italia, tanti colori politici che nonostante il credo diverso hanno riconosciuto la coerenza, l'amore per la città e le qualità umane di quella che comunque è stata una figura importante per il territorio e per l'intera regione. Gian Donato era un grandissimo punto di riferimento per Fratelli d'Italia, per la destra abruzzese e nazionale, era un punto di riferimento per la politica abruzzese. se ne va una bellissima persona, un punto di riferimento, una persona che amava la politica e faceva amare la politica, che ci ha insegnato che prima di ogni altra cosa la politica doveva essere dare l'esempio. e Gian Donato è stato un grande esempio di onestà, di lealtà e di coerenza politica. Una giornata di ricordo, di commozione per tutto il centro-destra, perde un uomo di spessore in questa città ma anche a livello nazionale. Gian Donato era un punto di riferimento di Fratelli d'Italia, era uscito all'esecutivo nazionale per stare vicino ai cittadini con il suo ruolo di difensore civico, come è stato nel nostro esecutivo nazionale nel momento in cui non eravamo il primo partito d'Italia, in cui progettavamo come arrivare a guidare questa nazione. sempre stato generoso, sempre disponibile, onesto, buono, non ha mai anteposto il suo interesse personale e l'interesse dei cittadini. Da una parte le toghe degli avvocati, dall'altra le fasce dei sindaci, tutti ne ricordano l'onestà e l'attenzione. Era un punto di riferimento per tutte le forze politiche, ma per tutti i giovani che si sono avvicinati alla politica. Era un esempio più che un punto di riferimento, una perdita incolmabile sia il valore politico ma soprattutto umano. Qual è l'insegnamento che va lasciato? Ma ne sono tantissimi, un esempio di correttezza, di lealtà, di trasparenza. È una giornata difficile, seppur sapevamo che le condizioni di giorno nato non erano delle migliori, ma nelle ultime settimane lui ha voluto far sentire la sua vicinanza chiamandoci uno per uno, a prescindere dall'appartenenza politica e dal colore dello schieramento all'interno dell'Aerio Centro Testi. Questo fa capire la grandezza dell'uomo. E ora parliamo di un problema che attanaia molti italiani, tantissimi automobilisti. Il caro benzina con prezzi alle stelle, ma al rifornimento non si rinuncia. Nostra inchiesta sentiamo Stefania Potente. Chi può cammina di più a piedi oppure impiega mezzi alternativi, ma per la maggior parte degli automobilisti è un'estate nerissima a causa dei prezzi della benzina aumentati a dismisura. Purtroppo non abbiamo altre alternative, o bicicletta o motorina. Siamo costretti. Cosa pensa di questi rincarichi che arrivano sempre durante il periodo delle feste? È la normalità purtroppo. Siccome non reagiamo ci meritiamo questo. È troppo, è troppo. E mi aspetto che aumentano ancora, non è che è finito. Mi aspetto delle batoste successive. Perché? Sono ottimista, perché sennò dovrei dire peggio, perché non si cambia più, non si vive più. È invivibile, qualsiasi cosa fa. Ho comprato un chilo di pane, no, sì sì, un chilo di pane 7 euro. Il calmiere, il pane, no? Giusto? E nel caso della macchina come si fa? Si usa un po' di meno? Si usa un po' di meno, in città si dovrebbe camminare a piedi, queste cose qui. Poi, che vi devo dire? Io mettevo 20 euro, adesso metto 20 euro. Facevo 100 chilometri, adesso ce ne farò di meno sicuramente. Ma siamo sulla brutta strada, insomma. L'esposizione del prezzo medio regionale è diventato obbligatorio come ha previsto il Ministero per contrastare le speculazioni e favorire la trasparenza. Non ha scoraggiato la clientela che comunque regolarmente continua a recarsi alla pompa di benzina. Si seguono le regole che vengono in qualche modo dettate, cercando di lavorare come si è sempre fatto. È sicuramente una mansione che si va ad aggiungere a quelle che sono le già tante mansioni dovute alle normative per noi appaltatori, gestori, benzinai. Però, insomma, si fa, si lavora. Questo è un periodo che comunque dritto a storta si viaggia. Quindi la benzina e il gasolio sono dei prodotti che servono per la locomozione dei mezzi. Quindi non possiamo fare altrimenti. L'esposizione del prezzo medio regionale non ha assolutamente influito sulle abitudini di acquisto della clientela che neanche si è accorta di questo cartellone gigante. Qualcuno ci ha chiesto per curiosità che significasse. Noi l'abbiamo spiegato, ma nessuno si è messo con la calcolatrice a verificare se l'andamento del prezzo è ragionevole o meno. C'è e sta lì, non c'è problema. In autunno è possibile prevedere un abbassamento del prezzo del carburante? Sicuramente i prezzi un po' scenderanno, ma quello sarà dovuto, comunque sarà un fattore legato alla diminuzione della domanda ed è un fatto economico, quindi non serve un analista finanziario. Che siano alti i prezzi è un dato di fatto, sta poco da fare. Ma secondo lei perché? È speculazione, speculazione a tutti i livelli. Parliamo di sanità. L'azienda sanitaria Vasto Lanciano Chieti ha assunto 152 nuovi OS. Intanto alla guida delle ASL abruzzesi potrebbe essere nominato l'ex DG ASREM Oreste Florenzano. Sentite. 152 OS assunti a tempo indeterminato dall'ASL Lanciano Vasto Chieti. Si sono concluse le procedure di assunzione del concorso e la graduatoria è stata ufficializzata. Sarà completato il piano del fabbisogno programmato per il 2023 con le nuove assunzioni che vanno a sommarsi alle precedenti e portano a 510 il numero di operatori sociosanitari con contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte dei 61 che prestavano servizio nel 2020. Eravamo in attesa della pronuncia dei giudici amministrativi sul concorso, ha spiegato il direttore generale Thomas Schell per poter procedere alle assunzioni che i vincitori aspettavano legittimamente. Inoltre è stata prorogata al 30 settembre la scadenza degli OS che prestano servizio attraverso le cooperative. Intanto in Abruzzo potrebbe essere scelto alla guida delle aziende sanitarie una vecchia conoscenza del Molise. Parliamo di Oreste Florenzano, l'ex direttore generale dell'ASREM. Il suo incarico in Molise è scaduto alla fine dello scorso febbraio e al suo posto venne nominato un commissario, Evelina Gollo, alla guida dell'azienda sanitaria di via Ugo Petrella. Florenzano si è ricandidato per tornare a ricoprire quel ruolo, ma l'aggiunta di Francesco Roberti non si affiderà di nuovo al manager Campano. È un bravo professionista, detto qualche giorno fa a primo piano Molise il governatore, ma non rientra nella mia idea di sanità. L'azienda sanitaria regionale del Molise ha deciso di ammettere al concorso nella disciplina dell'emergenza urgenza i medici in servizio nel 118. Un'ottima notizia per il dottor Giancarlo Totaro, patologo clinico dell'ASREM. L'organico del 118 è allo stremo, è fortemente soggetto alla fuga dei medici che negli ultimi anni stanno lasciando in massa il servizio per migrare verso altri settori della medicina territoriale. Il suo commento, un provvedimento che se fosse avvenuto qualche anno prima sicuramente avrebbe potuto arginare la spaventosa fuga dei medici dal 118. Ed ora la cronaca. La cronaca era diretta in Puglia con moglie e figlio per le vacanze estive quando la sua auto è stata coinvolta in un incidente nel tratto chietino dell'A14. L'uomo controllato dagli agenti della Polizia di Vasto Sud, il risultato destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Cuneo, doveva scontare la pena di due anni e 11 mesi per aver commesso alcuni furti sul territorio. L'uomo, un cittadino moldavo, è stato quindi arrestato e condotto in carcere. Ed un'altra auto in fiamme sulla costa molisana, questa volta l'episodio si è verificato nel quartiere Porticone a Termoli ed è avvenuto a distanza di qualche giorno dalle vetture incendiate a Campomarino e sempre a Termoli ma nella zona industriale. Per spegnere il luogo che ha semidistrutto l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco, sono in corso le indagini per accertare l'eventuale natura dolosa del fatto. Cambiamo argomento, andiamo all'Aquila, dove questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del percorso del fuoco del Morrone all'auditorium del Parco Renzo Piano. Per noi c'era Sabrina Giangrande, sentiamo tutti i particolari dal servizio. Illustrato all'auditorium del Parco Renzo Piano dell'Aquila il percorso del fuoco del Morrone, la tradizionale fiaccolata che ripercorre la strada intrapresa da Pietro Angelerio nell'agosto del 1294, dall'eremo di Santo Nofrio nei pressi di Sulmona fino alla Basilica di Collemaggio dell'Aquila per ricevere le insegne pontificali e darsi il nome di Celestino V. Il 44esimo fuoco del Morrone, questo già indica il fatto che noi da quattro anni prima del corteo della bolla del 1983 eravamo già in viaggio sia con il fuoco e con altre manifestazioni per far parlare di perdonanza. Poi il discorso del quarantennale del primo corteo della bolla voluto dal sindaco Don Tullio De Rubeis di allora, quindi sono riuscito a rintracciare chi fu il tedoforo che portò alla fiaccola quel 27 di agosto e il nipote dell'allora sindaco Tullio De Rubeis che ci accolse proprio quel giorno a Collemaggio. Beh addirittura è una manifestazione più antica della perdonanza moderna e quindi è sempre un grandissimo piacere essere qui e presentare questa tradizione meravigliosa che è stata determinante per consentirci di avere questo riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. L'appello che facciamo ai tanti giovani che ci sono, che seguono questa manifestazione ma devono avere il coraggio di diventare nuovi tedofori e quindi portare avanti questa nostra tradizione. È un momento importante per la città e siamo davvero orgogliosi. È sempre un momento bello quello in cui si presenta il fuoco. Torniamo in Molise. Se ieri il Consiglio Comunale di Termoli ha votato l'incompatibilità al sindaco del governatore Francesco Roberti a Campobasso i tempi sono più lunghi per il sindaco Roberto Gravina. Insorge l'opposizione che dice è un fatto gravissimo. Sentiamo tutto dal servizio. Il doppio ruolo di sindaco di Campobasso e consigliere regionale durerà per altri 20 giorni più o meno. Alla fine di agosto Roberto Gravina dovrebbe decadere nel suo incarico da primo cittadino. I tempi sono più lunghi rispetto a quelli della stese civica termolese che ieri ha votato l'incompatibilità del neogovernatore Francesco Roberti in qualità di sindaco della città adriatica. Al suo posto a guidare il municipio termolese c'è il vice sindaco Ferrazzano. Lo stesso ITER sarà seguito a Campobasso col passaggio di consegne tra Gravina e la vice sindaca Paola Felice ma l'allungamento dei tempi ha fatto sbottare il capogruppo della Lega a Palazzo San Giorgio. C'è stata una lettura amministrativa diversa, un po' più arzigogolata che comunque non rende sicuramente giustizia di una decisione come quella dell'ex sindaco, del decadente sindaco Gravina di tradire il proprio mandato popolare e di aver scelto in qualche modo di sedere per cinque anni nella poltrona dei consiglieri regionali. Non è stata ancora fissata una seduta relativa all'incompatibilità, alla dichiarazione di incompatibilità del sindaco? Ancora no, è stata convocata una conferenza dei capigruppo in cui si stabilirà la roadmap del prossimo appuntamento. Entro fine agosto presupponiamo che ci sarà la chiusura, la decadenza ufficiale del sindaco Gravina. Oggi il Consiglio Comunale di Campobasso si è riunito ma per discutere di altri argomenti. Gravina era assente e l'assesi ha approvato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche finanziato con 39 mila euro dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Il Consiglio Provinciale dell'Aquila ha stanziato 14 milioni di euro per interventi nel comprensorio aquilano e 12 milioni di euro per opere sulla Marsica e i particolari in questo servizio curato per noi da Pasquale Damiani. Il Consiglio Provinciale dell'Aquila ha approvato l'aggiornamento del DUP, il documento unico di programmazione, il conseguente assestamento generale al bilancio di previsione per le annualità 2023-2025. Grazie a questa approvazione saranno destinati al territorio marsicano 12 milioni di euro che serviranno a finanziare diverse opere pubbliche e altri 14 milioni destinati al comprensorio aquilano derivanti dall'avanzo di amministrazione. I fondi stanziati sono destinati agli interventi riguardanti viabilità ed edilizia, dichiarano il Vice Presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, con delega all'edilizia e la consigliera delegata alla viabilità, Gabriella Sette. Siamo davvero soddisfatti per l'approvazione di questo corposo programma di interventi, concludono gli amministratori provinciali, condivisi in maniera unanima con il Presidente Angelo Caruso, il Consiglio Provinciale e con le amministrazioni locali interessate. Per quanto riguarda il finanziamento di 12 milioni di opere per la Marsica, si tratta di un grandissimo risultato per il nostro territorio, dichiarano i consiglieri provinciali Dino Iacutone, Quirino Dorazio e Gianluca Alfonsi. Abbiamo lavorato a lungo e duramente per raggiungere questo traguardo. Ringraziamo il Presidente Caruso e tutto il Consiglio Provinciale per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione verso i bisogni della Marsica. un ulteriore sentito ringraziamento, intendiamo rivolgerlo ai funzionari che hanno lavorato al procedimento, senza di loro non sarebbe stato possibile perseguire questi fondamentali obiettivi. Pasquale Damiani sta seguendo il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ultimi giorni per i campioni d'Italia in Abruzzo. Domani, anzi scusatemi, venerdì ci sarà l'ultima amichevole al Patini, ma i fari sono puntati sulle sirene che arrivano dall'Arabia. Il timore è che un'offerta da centinaia di milioni possa scalfire il muro alzato da De Laurentiis per Osimen e Gelischi. Sentiamo tutto. Continua la preparazione del Napoli di Rudi Garcia a Castel di Sangro. Ieri pomeriggio allenamento a ranghi ridotti con mezza squadra a riposo. In campo Osimè, chiaro e scosso applausi a scena aperta, ma su alcuni giocatori del Napoli irrompe la rabbia, in grado di offrire un'offerta da capogiro a De Laurentiis per i suoi giocatori più rappresentativi, per l'appunto Osimè e Gelischi. Il pressing dei ricchi arabi preoccupa i tifosi partenopei, che seguono con particolare attenzione l'evolversi della situazione. Ma facciamo il punto della situazione con la firma storica del mattino, Pino Taormina. È un giudizio molto provvisorio, molto temporaneo, non completamente positivo, ma si tratta comunque di giudizi di agosto e quindi sono neanche il primo trimestre, proprio a lungo la strada che porta alla prima pagella. È difficile trovare delle squadre che a 15 giorni dall'inizio del campionato siano già pronte e che abbiano le idee chiare. Il Napoli non ha neppure la rosa ben definita, perché sono tante le cose che stanno succedendo in questi giorni. È evidente che tante novità arriveranno anche a centrocampo e si dovrà capire nelle prossime ore se il muro alzato da De Laurentiis per evitare la cessione di Ozyman resisterà, come è l'impressione di tutti, ovvero che De Laurentiis alla fine convincerà Ozyman a restare almeno un altro anno. Sta rientrando anche Mario Rui. Mario Rui dovrebbe essere pronto per il fine settimana, è uno dei terzini, il terzino sinistro che dovrebbe essere il titolare la prossima stagione, ma è possibile che ci sia il solito ballottaggio con Olivera. Ci sono tante voci anche su di lui, ma alla fine resterà. Memoria è il titolo del volume dedicato a Don Michele Fratianni, parroco di Montagano dal 1966 al 2000. Sentite tutto dal servizio. A Montagano, nella suggestiva cornice dell'abbazia di Santa Maria di Faifoli, la presentazione del volume Memorie di Don Michele Fratianni, parroco di Montagano, dal 1966 al 2000, figura di grande rilievo e spessore culturale, amico e padre spirituale del venerabile servo di Dio, fra Immacolato. È un prete molto operoso e nelle sue pagine viene fuori proprio questo, cioè nei 30 e più anni nei quali lui è stato parroco del paese, incessantemente ha lavorato per sistemare e abbellire le chiese di Montagano, sempre con grande gusto, bisogna dire, perché ha fatto dei lavori sempre eccezionali da quel punto di vista, e potendo contare anche su un artigianato che all'epoca era sicuramente di grande qualità qui a Montagano. Infatti una parte che mi ha colpito molto nel libro è quella in cui Don Michele, voglio dire, si rivolge a questi artigiani del posto, il fabbro, il muratore, proprio con grande ammirazione. La professoressa Angela Vitullo ha illustrato i contenuti e le fasi di realizzazione del libro nato dalle memorie autografe del parroco che negli anni aveva notato le attività svolte nel suo mandato, una sorta di testimonianza del suo operato. Da questi scritti e da alcune omelie ritenute ancora attuali, il nipote Giuliano Mariano e la professoressa Marisa Iannaccio hanno creato il testo che ripercorre vita e opere di Don Michele. Ha stimolato la crescita culturale e sociale del nostro paese e forse ne siamo più consapevoli oggi, a distanza di più di vent'anni dalla sua morte, che non quando vivevamo quel fermento. Nel volume presente un contributo di Mingo Iacovino e Tonino Parente sul patrimonio artistico delle chiese di Montagano, foto fornite dai cittadini e da Giorgio Iannitto, che ha curato una videoproiezione di alcuni episodi significativi della vivacità della parrocchia e della comunità montaganese in quel periodo. La serata si è chiusa con il concerto di clavicembalo del maestro Davide Mariano, organista e pianista di fama internazionale. Chiudiamo con un'ultima ora battuta. Poco fa dal Corriere della Sera si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere dell'Aquila. L'ex latitante affetto da un tumore è dal giorno dell'arresto in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Messina Denaro ormai è completamente incompatibile con il regime carcerario, soprattutto in quello più duro del 41 bis. Deve essere immediatamente ricoverato, ha dichiarato al Corriere della Sera l'avvocato abruzzese di Vasto, in provincia di Chiedi, di Alessandro Cerella che dal 25 giugno scorso affianca l'avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa del boss mafioso. I due legali presenteranno al Tribunale della Libertà dell'Aquila un'istanza di ricovero urgente all'ospedale dell'Aquila, luogo nel quale il detenuto in regime di 41 bis ha già subito un intervento chirurgico urologico il 27 giugno scorso con un massiccio di spiegamento di forze dell'ordine attorno al presidio. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Ora vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di mercoledì 9 agosto Torna l'anticiclone, bel tempo e temperature in aumento in Abruzzo dove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi venti deboli, mare poco mosso le temperature l'Aquila 12-27 Pescara 16-26 Chieti 17-27 Teramo 18-28 L'alta pressione torna protagonista anche in Molise e garantisce un tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in serata venti deboli, mare poco mosso le temperature Campobasso 15-28 Isernia 14-28 Termoli 20-28 Venafro 17-30 Bene, è tutto con questa edizione l'informazione torna alle 19-30 potete seguirci anche sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram restate con noi perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva parleremo in particolare delle squadre molisane del mercato delle molisane tra poco Lo sport il Campobasso in apertura sarà uno dei punti di forza dell'attacco parliamo di Leo Abreu che promette ai tifosi gol e tanto impegno sentite Da lui, mister Mosconi si attende gol e lavoro sporco per la squadra Leo Abreu classe 1998 attaccante italo-portoghese ex Altamura Giuliano Matera Cassino Monterosi primavera del Bari lo scorso anno sette reti con la Flaminia Civita Castellana in Serie D sarà uno dei punti di forza del Campobasso già in bella mostra nel ritiro di Vinchiaturo dove la squadra lavora senza soluzione di continuità Stiamo bene stiamo lavorando benissimo e dobbiamo continuare così perché poi ce le troviamo nella partita Conosce il modulo di Mosconi col 3-5-2 ha già giocato e per questo non avrà problemi a inserirsi perfettamente nei meccanismi tattici di un sistema di gioco molto in voga Mi trovo benissimo è un modulo che ho già fatto poi dove decide il mister di giocare gioco senza problema Si è integrato subito ebbene in un gruppo che sa di dover dare tanto ad una piazza esigente Subito dal primo momento si è creato un bel gruppo una bella famiglia dobbiamo continuare così fino alla fine Piazza esigente ma con un pubblico eccezionale Hanno chiesto di dare il massimo di lottare su ogni pallone su dare la maglia e questo possono stare sicuri che lo faremo ogni partita Ora parliamo del Vasso Girardi che rende noto l'ingaggio di Edoardo Cecuzzi nato a Castiglione del Lago il 3 dicembre del 99 è un centrocampista centrale vanta numerose presenze in Serie D andrà a dare manforte al centrocampo le sue doti calcistiche fin da piccolo sono state evidenti tant'è che viene ingaggiato dal Perugia dove ha giocato nel settore giovanile poi Poggi Bonzi San Giovannese Ravenna Sona e in ultimo la Trestina a Edoardo la società augura buon lavoro i tifosi si augurano grandi prestazioni in campo scendiamo nel torneo di eccellenza parliamo dell'Isernia che sta lavorando al completamento dell'organico ha annunciato l'acquisto del difensore Giobbe e dell'esterno Valentino sentite conferme e nuovi arrivi in casa Isernia San Leucio le conferme corrispondono ai nomi di Luca Cristina classe 2006 professione attaccante Scampoli di match lo scorso anno bomber di grande prospettiva e Andrea Monteduro difensore solido forte anzi fortissimo nel gioco aereo veloce e aggressivo quanto basta per tenere a bada gli avversari i nuovi arrivi sono invece il difensore Alessio Giobbe classe 99 difensore centrale giovanili della Cremonese del Benevento poi in prima squadra con Sorrento Gelbison Angri e Virtus Avellino e ancora Vincenzo Valentino esterno classe 2005 con una grande gamba lo scorso anno con la maglia dell'Orta Nova eccellenza buiese tre gol e sette assist altri innesti verranno comunicati nei prossimi giorni e andranno a completare la rosa a disposizione di mister Farrocco una rosa composta fin qui da giovani e giovanissimi di belle speranze molti dei quali molisani e Isernini e da vecchie volpi capaci di fare la differenza Cristina Monteduro Giobbe e Valentino si uniranno al gruppo già composto da Patullo del Bianco Barile Ivan Regner trequartista seconda punta classe 89 di grande esperienza Juan Ignazio Lopez centrocampista classe 93 tanta Puglia alle spalle e Facundo Cascio autentica rivelazione dell'ultima stagione classe 97 23 gol lo scorso anno 16 centri in campionato 7 in Coppa Italia insomma uno che fa la differenza parliamo della Esernia fraterna che continua la sua campagna di acquisti e riconferme per la prossima stagione hanno firmato per un altro anno in Bianco Celeste Di Tommaso e Antenucci Di Tommaso tornerà a garantire solidità e esperienza nel reparto difensivo mentre Francesco Antenucci è un centrocampista che unisce tecnica e fisicità indispensabili per la squadra affidata ancora una volta a Fabio Di Rienzo bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti